Approvato il PEAR, il Piano Energetico Ambientale Regionale. Azienda Zero, adeguamento alle norme nazionali per la scelta del direttore. Endometriosi, una legge più efficace. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Via libera a maggioranza da parte dell'Aula al Piano Energetico Ambientale Regionale. Il Consiglio Regionale ha approvato a maggioranza il Piano Energetico Ambientale Regionale, PEAR. La proposta di deliberazione che era stata presentata in Aula nella seduta del 2 marzo dall'assessore Matteo Marnati ha due obiettivi. orientare le politiche regionali in ossequio al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, sostenere e promuovere un'intera filiera industriale di ricerca. Per quanto riguarda le fonti, i tre assi principali sono il rafforzamento della filiera corta della biomassa, il potenziamento del settore idroelettrico e la promozione dell'energia solare. Il PEAR ha come scopo la riduzione dei consumi di energia del 30% entro il 2030 e l'innalzamento al 50% dell'utilizzo di fonti rinnovabili, solo elettriche. In generale i quattro settori principali sono le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica principalmente agendo sugli edifici civili e sui trasporti, le reti e la generazione distribuita e il potenziamento della Green Economy. La votazione finale si è svolta dopo che sono stati respinti tutti gli atti di indirizzo collegati presentati da Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi. Azienda Zero ha approvato il disegno di legge che adegua la scelta del direttore alle norme nazionali. Il direttore generale dell'azienda Zero sarà scelto dall'elenco nazionale dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, istituito presso il Ministero della Salute. Lo prevede il disegno di legge di modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 del 2007, presentato per la Giunta dall'assessore alla Sanità Luigi Cardi e approvato a maggioranza dall'Assemblea. Noi avevamo lasciato molto ampio il campo di scelta del direttore generale senza limitazione. Il governo ci ha chiesto di sceglierlo con le stesse modalità con cui si scegliono i direttori delle aziende sanitarie, quindi scegliono nell'elenco nazionale dei direttori generali e questo ha comportato la modifica della norma. Relatore di maggioranza Alessandro Stecco, Lega. Questa è un'azienda che coordinerà le altre aziende sulle funzioni strategiche e questo abbiamo dimostrato e si è visto che durante la pandemia è necessario. Relatori di opposizione Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi e Raffaele Gallo, Partito Democratico. Noi siamo convinti, rimaniamo convinti, che questo sarà uno strumento che creerà più confusione e non più efficienza. Il tema vero sono i conti della sanità in rosso, sono i 5.500 precari che probabilmente non saranno confermati. Con 38 voti favorevoli, un contrario e due non votanti, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l'ordine del giorno che invita l'ufficio di presidenza a esprimere parere favorevole alla Costituzione in giudizio contro il ricorso al TAR annunciato da Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia. Il ricorso riguarda la modalità del voto usata per il rinnovo di metà mandato dell'UdP avvenuto da remoto a causa dell'emergenza pandemica. Per Fratelli d'Italia tale scelta non garantirebbe il voto segreto. Endometriosi, approvate all'unanimità le modifiche al testo che ne disciplina prevenzione e cura. Istituzione del registro elettronico sull'endometriosi e del centro di coordinamento sulla malattia, ottimizzazione dell'osservatorio regionale e celebrazione il 28 marzo di ogni anno della giornata regionale per la lotta all'endometriosi, una patologia che interessa circa 300.000 donne in Piemonte. Sono queste le principali novità introdotte dalla modifica della legge del 2017 presentata dal primo firmatario Alessandro Stecco. Lega è approvata all'unanimità dall'Assemblea. Respinti 17 emendamenti presentati da Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, approvate all'unanimità due mozioni, presentate rispettivamente da Silvio Magliano, Moderati, e da Daniele Valle, Partito Democratico, e Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi. La prima propone alla Giunta regionale di inserire la sindrome fibromialgica tra le malattie croniche invalidanti. La seconda impegna la Giunta regionale a sostenere presso la conferenza Stato-Regioni e presso il Comitato LEA l'inserimento della vulvodinia, della neuropatia, del pudendo e della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti previste dai livelli essenziali di assistenza. Insieme per una buona politica regionale. Questo è l'obiettivo della convenzione siglata tra Consiglio regionale, Università e Ires. Fare sinergia per migliorare la conoscenza delle istituzioni locali e promuovere la qualità degli strumenti normativi da esse emanate. E' questa la finalità della convenzione di cooperazione che è stata sottoscritta in Sala Viglione tra il Consiglio regionale, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e Ires Piemonte. Con questa convenzione dovrebbe partire poi tutta la discussione sull'autonomia locale. Un'autonomia che è già partita decenni fa, che lo Stato e il Governo nell'ultimo periodo ha voluto accelerare per cercare di dare ai cittadini delle leggi migliori. Tra gli obiettivi della collaborazione è la diffusione della conoscenza dei valori sottesi alla promozione dell'autonomia territoriale nella regione Piemonte, il sostegno a iniziative volte alla conoscenza delle istituzioni locali e del territorio, l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche sui temi del regionalismo e la promozione di attività di formazione per gli amministratori pubblici. Aiutare la politica nelle scelte, perché fare delle scelte è un esercizio non facile, ancor più quando queste scelte sono di interesse pubblico come quelle che fa la politica e quindi mettere a disposizione gli strumenti di analisi per poterle compiere nel modo migliore credo sia un aiuto importante. Avere tutto in rete, questo secondo me è il primo passo, cioè la conoscenza dei dati è il primo passo per poi fare della buona politica. Io credo che si debba andare in questa direzione. La guerra delle donne, un incontro sulle violazioni dei diritti di cui genere femminile è vittima nel mondo. La guerra delle donne è il titolo dell'incontro che il Comitato Diritti Umani e Civili, in collaborazione con la Consulta Femminile Regionale, ha organizzato nell'Aula Consigliare per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti violati ed esprimere vicinanza ideale alle donne che oggi stanno vivendo la situazione tragica della guerra come sta accadendo ora in Ucraina. È un incubo che non finisce, è un incubo che anzi sembra diventare sempre più sanguinoso. Non ci sono aggettivi per descrivere la situazione di queste persone che fino a ieri viveva una vita come la nostra e da un giorno all'altro si sono dovute scappare per salvare la vita loro e dei figli. Dall'Ucraina al Congo, dove negli ultimi 26 anni di guerra sono morte circa 12 milioni di persone e le donne congolesi sono state le prime vittime di questi conflitti in cui lo stupro è usato come arma di guerra, ha sottolineato Mary-Jean Belasigi Sifa, coordinatrice Forum Donne Africane Italiane. Porre fine a questa situazione perché non ne possiamo più, bisogna fare qualcosa. 12 milioni di morti sono tanti, non è un numero solo, ma sono 12 milioni di persone, di donne, di uomini, di bambini che chiedono giustizia. Torino ferita, inaugurata alla Biblioteca Nazionale la mostra sul tragico attentato alla scuola di amministrazione aziendale del 1979. Con l'inaugurazione alla Biblioteca Nazionale di Torino della mostra fotografica Torino ferita 11 dicembre 1979, si conclude il percorso sulla memoria degli anni di piombo che l'Associazione La Porta di Vetro ha intrapreso con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte Comitato Resistenza e Costituzione l'11 dicembre 2019. In quella giornata a Palazzo Lascaris un convegno ricordò a 40 anni esatti dall'avvenimento uno dei più gravi episodi terroristici che subì Torino, l'assalto alla scuola d'amministrazione aziendale da parte del gruppo terroristico di prima linea. Fu un'azione cruenta che provocò il ferimento di 10 persone, 5 docenti e altrettanti studenti. Il compito del Comitato per la Resistenza e la Costituzione è proprio quello di ricordare, di fare memoria e attraverso il ricordo costruire consapevolezza delle nuove generazioni. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!